Accantonata l'ipotesi di cessione all'imprenditore italo-americano Massimo Nicastro e per ora anche al gruppo Rotta Samorì, il Rimini riparte dal presidente Giorgio Grassi, una scelta che come spiegato l'avvocato Gianluca Brugioni è saltata perché è arrivata una proposta difforme da quelle che erano le premesse. Chi si presenta a una trattativa per acquistare in tutto e in parte le quote del Rimini sia pronto con con soluzioni e garanzie certe che consentono di dare stabilità e certezza al Rimini e non dover tornare mai più sottoscritto quel contratto su questioni economiche, cioè i pagamenti vanno garantiti. Grassi lascia comunque la porta aperta a nuovi soci che in caso di concretezza potrebbero essere tranquillamente ascoltati, ma pochi giorni dall'inizio del campionato dell'era Penta Nicastro rimane la certezza di un nuovo staff tecnico e nuovi giocatori portati appunto dalla gestione italo-americana. Direttore sportivo allenatore comunque sono già stati confermati di Giorgio Grassi che ammette di non essersi pentito di averli conosciuto ed è anzi contento di averli a disposizione. Il Rimini è pronto, tra virgolette, ad iniziare il campionato e l'unica certezza sembra appunto essere lo staff tecnico. A parte la scelta di quei staff che io non conoscevo, però credo che mi abbiano fatto un bellissimo regalo perché onestamente adesso mi trovo a lavorare con delle persone che sono anche più brave di quello che immaginavo, ma non sono solo adesso l'allenatore e il direttore sportivo ma anche tutti gli altri collaboratori che sono di altissimo livello, quindi questo è diciamo quello che è venuto fuori. Grazie. 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 Grazie.